ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video svuota la spesa ho fatto i miei acquisti sul sito della basco quindi ho ordinato tutto online e ho scelto la consegna a domicilio anche se ahimè questa è una tipologia di spesa che non potrò più fare tanto spesso perché i siti sono completamente saturi tutti stanno facendo la spesa online quindi è diventato molto più difficile io per questa volta ci sono ancora riuscita però ho visto che già per la settimana prossima è tutto pieno comunque a parte tutte queste cose adesso condivido con voi la spesa che ho fatto oggi ho preso una confezione di cotolette di pollo della marca Aya che sono in assoluto le mie preferite poi ho preso delle patate al forno queste qui con taglio rustico anche queste mi piacciono tantissimo perché sono leggermente più larghe un pochino più spesse quindi le apprezzo moltissimo e sono da cuocere in forno poi ho preso una confezione di minestrone della marca mio orto questo qui è buonissimo io lo apprezzo veramente molto poi una confezione da 4 di cran caramel della danone poi una confezione da 2 di budino cran caramel della valsoia questo mi piace tantissimo io di solito lo compro così perché è un pochino più leggero rispetto all'altro almeno per quella che è la mia impressione poi ho preso 4 confezioni da litro di latte scremato ve ne faccio vedere una sola però ne ho comprato 4 poi ho preso 3 mozzarella light santa lucia queste sono quelle che io preferisco anche se in realtà mi piacciono anche quelle classiche della santa lucia quelle non light diciamo però queste comunque sono un po più leggere mi piacciono di più poi ho preso una confezione di polpette di pollo e tacchino della marca aia anche queste mi piacciono molto le cucino spesso poi una confezione di speck che utilizzo soprattutto quando faccio la pizza ma forse questo ve l'avevo già detto in un altro video poi ho preso una confezione di sovracosce di pollo queste senza uso di antibiotici anche questo mi piace moltissimo lo cucino sempre con le erbe aromatiche e viene fuori una cosa squisita poi ho preso una confezione di guanti usa e getta io questi guanti li utilizzavo già molto prima che arrivasse il problema del coronavirus infatti se andate a vedere i miei video precedenti anche quelli dell'anno scorso vedrete che c'è sempre questo prodotto comunque se non c'è sempre c'è quasi sempre perché io li utilizzo tanto quando faccio le pulizie quando pulisco il bagno quando devo fare dei lavori particolari come ad esempio pulire il pesce insomma li utilizzo molto adesso è difficilissimo trovarli e mi ritengo già fortunata che sono riuscita a trovare questa confezione da 50 guanti stanno andando a ruba ma sappiate che io li usavo già prima poi ho preso una confezione di gnocchi di patate questi anche sono buonissimi soprattutto cucinati con il pesto da buona genovese non posso non apprezzare i gnocchi al pesto poi ho preso una confezione di succo di frutta alla pera senza zuccheri aggiunti poi una confezione di cappuccino nescaffè da zuccherare questo lo stavo finendo sono felicissima di averlo trovato poi una confezione di cereali kellogs questi sono quelli classici i fiocchi di mais per capirci poi una confezione di ragù alla bolognese questi sughi già pronti che io utilizzo solo qualche volta ma che compro abbastanza spesso perché li tengo in frigo di riserva poi una confezione di pomodoro questo della marca pomì anche questo lo utilizzo quando faccio la pizza perché è proprio la classica salsa di pomodoro senza niente di particolare poi ho preso una confezione di fettucine integrali della marca molisana secondo me questa è la marca migliore o comunque una delle migliori quando si tratta di pasta integrale la trovo veramente ottima io non sono una persona che ama la pasta se mi seguite sapete che non è che mi piaccia tanto ma se devo mangiare la pasta la scelgo integrale e possibilmente di questa marca poi ho preso due confezioni da un chilo di farina integrale della marca premia è una di quelle farine integrali che io apprezzo veramente moltissimo e poi ho preso una confezione di fettucine 100% integrali della marca via verde qua c'è stato un errore nel mio ordine nel senso che io avevo ordinato le fettucine online però probabilmente ho inserito nel carrello anche queste per sbaglio nel senso che devo aver fatto un click in più senza rendermene conto su un altro prodotto e mi sono ritrovata anche queste in ogni caso va benissimo perché le mangeremo le terremo comunque nella dispensa con gli altri pacchi di pasta e va benissimo questa è la mia spesa fatemi sapere nei commenti se anche voi fate gli acquisti online e se ci state riuscendo soprattutto perché in questo periodo è veramente complicato vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme